La passione ti porta a fare cose immense, impensabili. La mia più grande persona è il calcio, potersi dedicare agli altri. Da lì credo che nasca la felicità di una persona. La passione è qualcosa che si è dentro e che ti fa andare oltre tutto, anche se non è stato facile. La passione è la passione.